La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon lunedì a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Sfogliamo le pagine dei quotidiani, partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale, il titolo di apertura parla il Premier Renzi, nel PD attacchi da un anno. Per tre volte Bersani ha votato sì alla riforma, oggi resa dei conti in direzione. Per il referendum il Premier alza la voce, Berlinguer basta scontri, così uccidiamo il futuro del partito. Andiamo avanti, lo sviluppo dei magistris, il patto per Napoli lo firmo solo se non è un pacco e poi l'analisi signor no, senza più alibi. Andiamo di fondo dagli esteri, parliamo degli Stati Uniti d'America, ci si avvicina alle prossime elezioni per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. I candidati continuano ad esserci polemiche sul candidato Trump, vediamo infatti il titolo lo scandaloso Trump divide i repubblicani, anche i Bush lo abbandonano, terra bruciata dopo le frasi sessiste. Andiamo di taglio alto, dalla nazionale Milik torna con la rottura del crociato, si parla di cinque mesi di stop per il Napoli, vediamo Milik fuori per cinque mesi, Gabbiadini tocca a te, oggi per Arec Milik l'intervento a Roma, gli auguri di Diego e De Laurentiis per il mercato obiettivo Pavoletti a gennaio, rottura del crociato per l'attaccante del Napoli e poi il punto vietato di sperarsi, la forza è nel gruppo. E ancora ieri la gara della nazionale italiana, vince l'Italia per 3 a 2 in una partita soffertissima contro la Macedonia, grazie ad un super immobile, vediamo immobile salva l'Italia di ventura dalla figuraccia. Di taglio basso, spara ai parassiti, terrore a Gerusalemme, due vittime, l'attentatore palestinese ucciso, Ama è un eroe. E ancora per i focus del mattino, asilo ai profughi, tribunali bloccati dai ricorsi, il record a Napoli da 800 a 4.500 richieste. Lasciamo questa prima pagina del mattino nazionale e andiamo ora invece sulle pagine di primo piano, la notizia principale per il mattino sono proprio le elezioni negli Stati Uniti d'America, il candidato repubblicano continua a perdere colpi anche a seguito di numerosi scandali che lo stanno coinvolgendo e vediamo il titolo infatti per la pagina di primo piano del mattino, Trump cresce il sexy scandalo, i suoi grandi elettori dimettiti, rivelazioni di Wikileaks sulle mail di Ilari, duello in tv ad alta tensione, il sesso bufera anche sulle frasi pesanti riferite alla figlia Ivanca e poi la difesa, per parare i colpi il Magnate prova ad attaccare sugli affari della Clinton. Insomma uno scontro acceso davanti alle telecamere tra i due candidati. Di taglio basso l'intervista, cambio in corso ancora possibile ma sarebbe una sconfitta sicura, lo storico Gentiloni, situazione imbarazzante ma si andrà avanti, non c'è tempo per un'alternativa. E poi il personaggio Trump prende voti proprio perché è fatto così, le gaff, la gaff non incide, ancora il complotto, i media e i politici non lo amano, Clinton è favorita ma resta in bilico, questo il parere. Andiamo avanti, andiamo sulle pagine del mattino di Salerno e parliamo di luci d'artista perché si avvicina il grande evento di Natale a Salerno, vediamo un po' come si stanno preparando luci d'artista, piano anticaos e rincari. Questo è il titolo, poi argomento anche di apertura per il mattino di Salerno, zona traffico limitato per i bus turistici, il costo dei parcheggi aumenta fino a 250 euro. E il trincerone diventa una trappola infernale anche con le luminarie spente, SOS degli automobilisti accelerate i lavori. Andiamo avanti, le riflessioni, i giovani fuggono dalla pigrizza. E ancora cambiamo argomento, parliamo ora di cronaca, il giallo, anziana morta a Nocera, ha sparito mezzo milione, il gruppo aveva appuntato l'anziana di Nocera, aveva capito come avvicinarla e come conquistare la sua fiducia dopo aver studiato le sue abitudini ed essersi accertato dell'eventuale presenza di parenti e amici. Ancora la fede, Salerno, grazie per Sant'Andrea, la consegna della chiesa agli ucraini. Andiamo di spalla, la politica centrodestra, la riscossa parte dal sud, Mentre di taglio alto parliamo di calcio, parliamo dello sport con la Serie B e la Salernitana che vince il derby contro il Benevento. Festa Salernitana, il derby del riscatto, due gol nel primo tempo, poi Granata resistono all'assedio finale. Il Benevento rialza la testa troppo tardi, Sannino esulta, ora serenità e continuità, I Patron sconfitta una grande squadra. Il commento adesso basta a Magoni, non sia solo un episodio. E poi il personaggio, l'otito Sicocco Lamarchi, l'ho preso per giocare in Serie A. Di taglio basso, punti di vista, Martino, il disegno e il requieto della vita dipinta. Lasciamo anche questa prima pagina del mattino di Salerno e andiamo ora a parlare proprio di luci d'artista. Quindi andiamo sulle pagine di primo piano, vediamo luci d'artista, piano anticaos e sosta più cara, zona traffico limitato per i pullman turistici, nei parcheggi aumenti fino a 250 euro, doppie file al bando, i mezzi senza prenotazione al parking non entrano in città. E ancora trincerone, trappola infernale, anche con le luminarie spente, automobilisti e pedoni in rivolta bloccati tra via Nizza e via Volpe, accelerate la chiusura del cantiere. Intanto l'avvertenza, i vigili non bastano, quelli stagionali. Di taglio basso, la protesta, agroallagato, la marcia funebbre dei sindaci, da Angri, Scafate e San Marzano, cittadini in corteo con una barra, il rio è morto, rischiamo la vita. E ancora Capaccio-Pestum precipita dalla gru nel cantiere, ricoverato un operaio di cava che è grave, incidente sul lavoro a Capaccio, scattano le indagini sul rispetto delle norme di sicurezza. Lasciamo anche queste pagine, ora occupiamoci, apriamo la pagina sportiva, partendo dalla nazionale italiana, che ieri è riuscita a vincere contro la Macedonia, una grande Macedonia, anche perché è riuscita, era avanti per due gol, ma è riuscita comunque a recuperare l'Italia. Vediamo il titolo, la doppietta di Immobile salva l'Italia, azzurri avanti con Belotti, un 1-2 della Macedonia, prima dello show del Laziale. A scopi la nazionale, presentatasi con sei novità di spettattolino, vince solo nel finale, è prima nel girone insieme alla Spagna. Le difficoltà nella ripresa evidente sofferenza a metà campo, nel contenere gli attacchi macedoni e poi il limite, troppa libertà di manovra degli avversari in rete Nestoreschi e Asani. Vediamo Ventura, il CT della nazionale, cosa dice subito dopo la gara? Ventura, pagata l'inesperienza di tanti giovani, il CT chiede pazienza, reazione importante, ci sono tutti i presupposti per fare bene. La felicità del bomber, qui mi sento importante, vogliamo andare in Russia. E poi intanto per le altre sfide, l'Albania cade con la Spagna e vince Israele. Lasciamo la pagina della nazionale, andiamo ora sulla pagina dedicata invece alla Salernitana, con la sua grande vittoria nel derby contro il Benevento, per 2-0, vediamo il titolo, la Salernitana rinasce e sgonfia il Benevento, della Rocca e l'esordiente Felipe firmano il riscatto Granata dopo la Sberla Ferrara per i Sanniti, primo stop dopo 25 risultati utili. Pressing e ritmo elevato nei locali sotto la pioggia, nel finale accorcia Lucioni. La sfida, numerose le defizioni in entrambe le squadre, colpite due traverse, una per parte. Quindi Salernitana 2, Benevento 1, al gemellaggio, passione, colore e amicizia, che lezione dalle tifoserie. Lasciamo anche questa pagina, andiamo avanti, andiamo ora invece a vedere quali sono i risultati per di eccellenza, soprattutto vediamo il girone B, in cui milita anche il Valdiano, vediamo il risultato, ennesima sconfitta purtroppo per il Valdiano in casa. Vediamo tutti i risultati, Cervinara Solofra 2 a 0, Castel San Giorgio Palmese 1 a 3, Ebolitana Nola 0 a 0, Piccola Faiano 2 a 1, Rinascita Vico Polisportiva Santa Maria 1 a 0, Sant'Agnello Sant'Ommaso 1 a 1, San Vito Battipagliese 1 a 1, Valdiano FC Sorrento 0 a 2. Andiamo avanti, la classifica, vede il Cervinara e l'Ebolitana 13 punti, in testa la classifica, segue l'FC Sorrento con 12, Battipagliese 10, Nola Faiano 9, Piccola 8, Solofra 7, San Vito 6, Palmese 5, Polisportiva Santa Maria, Rinascita Vico 4, Castel San Giorgio, Sant'Ommaso e Sant'Agnello 3 e chiude la classifica il Valdiano con 0 punti. E con i risultati di eccellenza a campana ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa che apriamo con le pagine del quotidiano la città, vediamo il titolo di apertura, De Luca rischia per una nomina, legale avversario promosso nello staff esposto in procura. Questo è il titolo di apertura e dell'argomento di apertura. Andiamo di taglio alto, il calcio, la Serie B, vittoria della Salernitana ieri nel derby campano contro il Benevento, Salernitana è il derby del sorriso col Benevento, primo tempo super, ripresa tremolante ma entusiasmo alla Rechi. Invece in Serie D, Cavese, poker a San Cataldo, Gelbison e Agropoli, K.O. Intanto l'Italia ieri sera nella gara di qualificazione per Russia 2018 riesce a vincere contro la Macedonia ma ha una vittoria sofferta, l'Italia evita la frittata in Macedonia 3 a 2 in Extremis. Così descrive la partita Il Quotidiano, la città. Andiamo ora a centropagina. L'inchiesta, cibo, eccesso di sprechi tra campi e supermarket, una nuova leggere per mettere un freno. A Capaccio Pestum grave un operaio di cava caduto da un capannone, è stato ricoverato a Salerno. E poi la settimana il nostro Instagram a quota 3.000, le foto più belle, il profilo Instagram della città in sei mesi dal niente ha già tagliato il traguardo dei primi 3.000 amici per celebrare quella che è stata una vera e propria pioggia di belle immagini dedicate a Salerno e provincia. Il personaggio poi Provenza fa poker, medico allenatore politico e ora anche attore. Il cartellone Oktoberfest nostrano tutti gli appuntamenti nel segno della birra e ancora a weekend Siciliano celebra la castagna fra musica e giochi. Andiamo di spalla Sansevero, due inchieste sul ragazzino di Eboli ucciso mentre a Salerno sale bingo sciopero contro i tagli proposte inique. Questa è la prima pagina del quotidiano La Città. Continuiamo a sfogliarlo andando nelle pagine interne dove troviamo una lettera inviata all'attenzione di Corrado Matera, assessore regionale al turismo. si parla soprattutto di viabilità, parliamo di una lettera aperta. Naturalmente le strade penalizzano lo sviluppo del Cilento. Questo è il succo della lettera, la lettera aperta all'assessore Corrado Matera, l'intervento della mano pubblica necessario per scongiurare la fuga dei nostri giovani. Egregio, assessore, sono come lei un cittadino salernitano del Cilento. In questa veste mi permetto di sottoporre alla sua particolare attenzione alcune considerazioni che possono stimolare il suo impegno nell'interesse dei cittadini che vivono la realtà cilentana. Apre così questa lettera che è una veduta, nella foto vediamo una veduta del porticciolo di Acciaroli, una delle eccellenze della parte sud della provincia di Salerno che rischia di rimanere dimenticata proprio per la questione viabilità. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo ora sulla pagina sportiva del quotidiano La Città e parliamo della salernitana e della vittoria contro il Benevento nella giornata di ieri nel derby campano. Una vittoria importante per la squadra di Sannino. Vediamo il titolo, via le streghe, salernitana derby da applausi, un primo tempo super, basta per battere il Benevento a segno della Rocca e lui Felipe. E lasciamo le pagine del quotidiano La Città, andiamo ora invece sulle cronache. Il titolo di apertura, andiamo ad Amalfi, il Duomo cade a pezzi. Così apre le cronache, da più di un anno alla facciata si staccano tessere dei mosaici, l'indifferenza di Curia e Comune. La soprintendente di Salerno, Cassule, ammette purtroppo non ci sono soldi per poter intervenire. La cattedrale di Amalfi è un simbolo dell'Italia, manca anche la messa in sicurezza. E poi è ampio spazio dedicato alla vittoria della Salernitana. La Salernitana scaccia le streghe, finalmente una festa alla Rechi, spettacolo in campo e sugli spalti, finisce 2 a 1. Spettacolare primo tempo dei Granate in avanti con le reti di Della Rocca e Felipe. Ancora, poi cambiamo per argomento, sciopero a passene fratte, bingo, i lavoratori incrociano le braccia. Continuiamo con le notizie in breve per questa prima pagina del quotidiano. Lega Pro Paganese, era ora tre gol al Melfi per ritrovare l'entusiasmo. In Serie D invece, Nocerina, Scatenata, la Cavese, Corsara, Male, l'Agropoli e il Gelbison. Questo è il punto per quanto riguarda la Serie D. Cambiamo argomento, quindi lasciamo lo sport. La cronaca, il furto appositano ruba 20.000 euro in un alimentare, preso un imbianchino di Cava dei Tirreni. A Torre Annunziata, condannato a 20 anni, ma è scarcerato il caso Fiorente. Poi si parla della Grande Lucania. Si torna a parlare della Grande Lucania. A Vallo di Diano, Cilento, Basilicata, nasce un nuovo comitato promotore per la costituzione della Grande Lucania. E intanto, invece, nell'agronocerino sarnese, funerali al rio Sguazzatoio, il dramma di tre città dell'agro, che sono state poi sommerse dall'acqua a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Lasciamo questa prima pagina. Andiamo proprio a parlare del nuovo progetto che pare sia partendo per la realizzazione della Grande Lucania, quindi l'accorpamento della Basilicata alla Basilicata di alcuni territori della parte sud della Campania, al proprio Vallo di Diano, Colfo di Policastro e Cilento. Quindi si torna a pensare al progetto. Vediamo il titolo, Cilento, Vallo e Basilicato, un'unica regione. Nuovo comitato promotore. Tempo fa alcuni comuni della provincia di Salerno avevano promosso un referendum. L'unica arma che la Basilicata ha a disposizione per sopravvivere e per rimanere completamente isolata è l'istituzione della macro-regione, la Grande Lucania, onendo il suo territorio con quello del vicino Cilento, cui la legano secoli di storie e di interessi comuni. Ricordiamo che intanto anche dalla Puglia era partito un altro progetto che vedeva parte della Puglia accorpata proprio a questi territori. quindi fare un'unica regione, aggiungendo anche con parte della Puglia. Cambiamo argomento, troviamo una notizia di Padula. Tanta gente per i festeggiamenti in onore all'elfige di San Francesco nei giorni scorsi, ieri i festeggiamenti. E lasciamo le pagine di Lecrona che andiamo ora invece su Metropolis. Vediamo che Metropolis apre invece con il grande risultato della Salernitana ieri alla Rechi per il derby contro il Benevento. Una vittoria attesa e soprattutto una vittoria che fa anche morale per la squadra di Sannino. Vediamo il titolo, infatti a caratteri cubitali un derby da sogno. La Salernitana rinasce battendo il Benevento per 2-1 ma lo tito vuole più tifosi alla Rechi. Esordio super per Luis Felipe, il difensore brasiliano, autore della seconda rete della Salernitana che ha concluso al meglio un primo tempo giocato ad alto livello dai Granata. Lasciamo la notizia sportiva, andiamo avanti con la Salerno voleva uccidersi per la vergogna, dramma nel carcere di Forni un 24enne arrestato da pochi giorni tenta di impiccarsi con un lenzuolo. Soltanto l'intervento della penitenziaria ha evitato il peggio, il ragazzo è in coma. Ancora a Salerno fa nulloni lo scontro in diretta TV attacchi reciproci tra due indagati per il caso Ruggi. Restiamo a Salerno, non giocate con le nostre vite doppia manifestazione dei 120 lavoratori delle sale bingo. A Cava dei Tiseni invece l'urlo di pregiato fra crolli e danni e a Capaccio cade da una gru grave un operaio. Infine Salerno si tuffa in mare e poi si dà alla fuga straniero nei guaisi. Per quanto riguarda invece il calcio non parliamo della Serie B ma parliamo dei campionati di Serie D e dei campionati dilettantistici. Partiamo appunto dalla Serie D con la Cavese, Gabrielloni Sciola, Cavese in volo, Tripletta della Punta e Blitz in Sicilia. Ancora Serie D, Gelbisone, Agropoli, Amarezze, Pugliesi, le Cilentane vanno KO e poi per l'eccellenza invece Delusione ebolitana, Battipagliese, Frenata, Biancazzurri raggiunti in vetta. Questa è la prima pagina di Metropolis, andiamo avanti, andiamo nelle pagine interne dove troviamo una notizia di Sassano. Siamo sulle pagine della parte sud della provincia di Salerno, quindi proprio di questi territori. vediamo Sassano, anziana truffata da falso tecnico, sono un tecnico comunale, così si è presentato il truffatore a un'anziana nel centro storico di Sassano riuscendo a mettere a segno un colpo da 500 euro. La donna, 80 anni e vedova, l'ha fatto entrare e si è lasciata purtroppo ingannare dalle parole del malvivente. Quindi ennesima truffa ai danni di anziani a Sassano. Con questa pagina e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata. Grazie. 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 Grazie.